Posta questa. Posta? Sì. Ok. Grazie. Ho appena cominciato adesso per provare. Oddio, Dio. Aspetta, amore, il biscotto. Il caffè è bello, bello, bello. Oh, perché vuole il caffè? Mamma mia, stai attenti, che spazio è! Umberto! Uberto! 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 Manca un poco, bello. Vieni qua. Perché il prossimo volo adesso spinghiamo. Ti portiamo tanti regali. Umberto! Dov'hai tu un regalo? Eccolo lì, no? Andiamo a vestirti! Che voglio! Vedete che facciamo le bolle. Mamma mia, dovete amare? No, non ti metto. Ti dico, cammina verso Giunirco. Ecco qua Giunirco. Sotto grande sasso, grosso sapente. Non è per Coca-Cola? Mamma! Non è che ci vuole. Che cosa? Uberto! 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 Grazie! si grazie prima va dai mammi no non ci si no non ci si no ti mette che tiriamo via da Mario da Mario ci si spostare l'interruttore suoffo prima di aggiungere il liquido suoffo le svegliazioni si si ecco non passare piegherlo dentro lì il disegno è tu eccolo lì forno di attenzione non dentro lì tanti agurri un geometra sta vicino credi che sia facile? provi nel qua ho paolo di Mario mauro non non ti mi pensi non puoi puoi ma ora che è caffè? però no ma si vuole la città adesso eh più giri più sabone non è bloccare ma non fai paura eh quanti? due due un po' più cinque uno più tre quattro 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 giralo fai girato sicuro ehi sugi tutto bene si? si di? si di? mangi mangarino mangi mangarino sei ricordo mangi 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 che è quello? mi abbiamo delle cose al mio nooo stai sapendo dove impassare nooo vedi aspetta non ci va da inutile si diventa lui nervosa aspetta sono felice il tirano è un antaro tutte sono fette è bravo cosa ho detto prima vai un'altra volta sai che hanno messo a gopula vai a vedere in camera la caletta lì che c'è dai lascelo lì lascelo lì pensavo che pensavo che di adottasse non ti affarsi per lo messo non ti affarsi per lo messo ma gli oggetti non ti affari ma gli oggetti ma gli oggetti ma gli oggetti ma gli oggetti come si chiama come vedete la torta o la mano? la calda scatta come si chiama questo? che non si metteva è invisibile? che bello guarda guarda Vito guarda Vito guarda Vito guarda Vito guarda Vito è invisibile ecco la è invisibile sparisci adesso ma ma non ha dato il cato fa la magia si eccolo è sparito è sparito è sparito ma c'è una frase da dire no si magica bulla magica dura abbracadabra abbracadabra tu mi devi dire sempre abbracadabra e dopo tu mi vuoi che cosa eri girardotto eri girardotto eri girardotto ma nessuno dice eri girardotto eri girardotto salute guardate qua salute questo diretto al cervello mi ha ridotto io voglio quella giaccello ci sono canne per esempio è giocato è giocato è giocato come diceva è giocato